Ricerche proseguite tutto il giorno, ma al momento nessuna traccia dell'uomo di 54 anni disperso da domenica al Montorfano. Il Senato ha approvato i disegni di legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera sui frontalieri, borghi, giornata storica. Scende dal treno con tretti di ascici, i carabinieri di Stresa hanno arrestato un minorenne. La provincia realizzerà la rotonda per il nuovo impianto Ornavasto di rifiuti e polemiche, si parla a extra. Prove di trasloco del mercato a Gravellona-Tocce nella piazza del municipio, soddisfatti gli ambulanti. Bocce Raffa-Possaccio in terra straniera perde da Inox Mosciano e vince contro Coffer di Castelfidardo. Ben ritrovati e una buona serata dalla redazione di VCO Notizie. In apertura l'uomo scomparso da domenica al Montorfano. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata, ma ad ora nessuna traccia dell'uomo scomparso da domenica al Montorfano. È originario di Salerno, lavora e vive a Verbania, è ufficiale giudiziario presso il Tribunale. L'ultimo contatto telefonico risale proprio a domenica. Secondo quanto riferito lo scomparso, si trovava in cima al monte, si apprestava a scendere dal sentiero azzurro. Poi più nessuna traccia o notizia. Le ricerche sono iniziate ieri sera alle 19, impegnati il soccorso alpino, la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia per regolare il traffico. Sono iniziate dalla zona di Prato Michelaccio, tra Mergozzo e Gravellona Toce, da dove parte il sentiero e dove è stata trovata l'auto dell'uomo. L'allarme è stato dato dai colleghi di lavoro dopo due giorni che non lo hanno visto proprio sul posto di lavoro. Interrotte alle 23, le ricerche sono riprese stamattina anche con l'ausilio di due elicotteri, dei vigili del fuoco e della polizia. Impegnati pure volontari che hanno battuto i sentieri, ma purtroppo al momento senza esito. Accordo Italia-Svizzera, approvazione oggi a Palazzo Madama, una giornata storica per i frontalieri e per i territori di confine. Con 142 voti favorevoli e l'assenso di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, il Senato oggi ha approvato i disegni di legge di ratifica dell'accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alle doppie imposizioni. Si tratta indubbiamente di una giornata storica, osserva il senatore PD Enrico Borghi, che in questi anni ha seguito assiduamente l'iter di definizione del provvedimento e anche stamane ha intervenuto nell'Aula del Senato per illustrarne ai colleghi parlamentari contenuti e per definire in sede di dibattito una serie di questioni parallele. Il disegno di legge approvato, prosegue Borghi, inserisce per la prima volta nella legislazione italiana diritti e garanzie per i lavoratori frontalieri e per i territori di confine, che fino a questo momento non erano sanciti e la cui assenza dava luogo a problematiche di interpretazione fiscale. Sono sostanzialmente cinque le rilevanti novità introdotte. Viene sancito il principio per il quale i lavoratori frontalieri residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera con la Svizzera, restano imponibili ai fini del reddito soltanto in Svizzera. Viene elevata a 10.000 euro la franchigia fiscale applicabile ai frontalieri italiani. Inoltre, a garanzia dei comuni di frontiera, viene garantito lo stanziamento dell'attuale gettito dei ristorni dei lavoratori frontalieri, pari a 89 milioni, indipendentemente dalla modifica del regime fiscale. A tale proposito, la parte rilevante dell'accordo stabilisce che il trattamento fiscale per i lavoratori frontalieri in attività fino all'entrata in vigore della ratifica non avrà alcuna modificazione e che il gettito derivante dal nuovo accordo fiscale rimarrà tutto sui territori di confine, mediante l'istituzione di un fondo, oggetto nel 2017 di uno specifico ordine del giorno presentato proprio da Borghi alla Camera. Ultima previsione della legge è l'istituzione di uno specifico tavolo interministeriale per la definizione di uno statuto dei lavoratori frontalieri. In questo modo, conclude Borghi, avremo finalmente una sede istituzionale a Roma con la quale sarà possibile dedicarsi in permanenza alle problematiche dei 70 mila lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. E tra le problematiche quella della viabilità, la statale della Valle Vigezzo, le barriere di ponte ribellasca cadono a pezzi, la denuncia dei frontalieri è già in sede di tavolo del frontalierato in provincia nei giorni scorsi. La Svizzera sarebbe disposta ad accollarsi le spese per la posa delle nuove barriere in metallo, ma in base alle normative italiane ciò non è possibile. Succede a confine tra Vigezzo e Centovalle, ovvero tra Ribellasca e Camedo, divisa da una piccola valle ma unita dal vecchio ponte sulla statale 337. Una strada che percorsa da migliaia di frontalieri e sono proprio loro a puntare il dito contro le condizioni in cui versano le barriere in legno posizionate ai lati del ponte, barriere che furono posate nel 2012 in occasione dei lavori di consolidamento del ponte, quando furono rifatti anche i vecchi parapetti in sasso. I nuovi muretti di protezione non risultavano però conformi come altezza alle nuove disposizioni di legge in materia di sicurezza, da qui la decisione di alzarli grazie alla posa di alcune barriere in legno. Ma a distanza di poco più di dieci anni questa sorta di staccionata e marcia in più punti è quindi pericolosa. La Svizzera si farebbe carico della posa di barriere in metallo, le quali però Anas si è opposta, spiega il portavoce dei frontalieri Antonio Locatelli. Il motivo di questo deniego è però presto detto. Il ponte di Ribellasca è soggetto a vincolo storico, che non consente l'installazione di barriere stradali né di dispositivi di protezione di tipo ordinario, fanno sapere da Anas. I presidi attualmente installati sono infatti i parapetti. L'ipotesi di installare barriere di sicurezza del tipo ordinario, la cui messa in posa è particolarmente invasiva, è stata avanzata dal gestore svizzero, ma è incompatibile con i vincoli storici cui è soggetta l'infrastruttura. Quindi serve un'altra soluzione. È stato avviato il progetto per dei presidi definitivi in sostituzione degli esistenti, con caratteristiche compatibili con le nomi attualmente in vigore, spiegano da Anas. La progettazione, che necessiterà del parere della soprintendenza ai beni culturali e paesagistici, è in fase di conclusione. La cronaca scende dal treno con tre etti di Ashish. Un minorenne residente nel Verbano è stato arrestato. È arrivato da Milano con tre etti e mezzo di Ashish nascosti addosso. È stato arrestato così, in flagranza di reato dai carabinieri di Stresa, un minorenne residente nel Verbano. I militari del luogotenente James Lou, intorno alle 19.30 di ieri, si trovavano nei pressi della stazione ferroviaria per controllare le persone arrivate con i treni di quell'ora, quando hanno notato il ragazzo, che è sembrato sospetto. Lo hanno quindi avvicinato e fermato per identificarlo. Il giovane era arrivato da Milano. La perquisizione ha permesso di trovare la droga, divisa in quattro panetti, nascosti tra i vestiti. Il controllo è quindi scattato poi anche all'abitazione della minorenne, dove sono stati trovati altri pochi grammi di Ashish, oltre a strumenti necessari per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il ragazzo, al termine delle formalità, è rimasto a casa, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio da parte del Tribunale per i minorenni di Torino. I sindaci di Verbania, Silvia Marchionini, Domodostola, Lucio Pizzi e il vice sindaco reggente di Omenia, Mimma Moscatiello, hanno chiesto pubblicamente le dimissioni del presidente della provincia del VCO Alessandro Lana. In una lettera congiunta parlano di profonda debolezza politica istituzionale dell'amministrazione provinciale, chiedendo al presidente di prendere atto della situazione, traendo le logiche conseguenze nell'interesse comune di tutto il Verbanio Cusio Ossola. Da giorni il presidente della provincia è al centro delle polemiche politiche in seguito alla bocciatura da parte di Fondazione Cariplo di due dei tre nomi proposti dallo stesso Lana come commissari della Commissione Centrale di Beneficenza dell'ente Lombardo. Intanto è di oggi la notizia che la provincia ha inviato a Milano la nuova terna da sottoporre a Fondazione Cariplo, in lizza per un posto nella Commissione di Beneficenza, oltre al già confermato Alessandro Insoglio, gius lavorista. Ci sono Giulia Margaroli, presidente della Croce Rossa di Domodossola, e l'avvocato Anna Guglielmenti. Intanto ieri i sindaci del Vicio Riuniti in Assemblea al Tecnoparco hanno approvato il bilancio di previsione dell'amministrazione Lana. Maggioranza di voti favorevoli, astenuti gli altri. Al termine dell'Assemblea il Consiglio Provinciale ha approvato un accordo di programma per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti che sarà realizzato a Ornavasso con fondi PNRR. L'impianto con il relativo traffico di mezzi sarà a servizio di tutto il territorio e quindi ci siamo impegnati a realizzare la rotonda, ha spiegato il presidente Lana. Approvato il bilancio da parte dei sindaci del VCO, il Consiglio Provinciale ora ha approvato un accordo di programma per realizzare una nuova rotonda a Ornavasso. Di cosa si tratta? Sì, questo è un accordo che era stato pattuito già anni fa quando si iniziò a parlare di questo nuovo impianto di trattamenti rifiuti nel comune di Ornavasso. Il Consorzio adesso per procedere con l'acquisizione dei terreni e dei capannoni ha un accordo insieme alla provincia dove noi ci impegniamo nei confronti del comune, in questo caso perché la viabilità è sul comune di Ornavasso, sul tratto provinciale, a realizzare questa rotonda che sarà di servizio non solo al paese di Ornavasso ma a tutto il territorio perché aumenterà in quella zona il traffico veicolare di mezzi pesanti che ovviamente portano rifiuti alla nuova era ecologica e di conseguenza abbiamo siglato questo accordo che mette il Consorzio e il comune nelle condizioni di essere tranquilli che questa infrastruttura verrà realizzata non quest'anno, probabilmente l'anno prossimo. C'è in ballo questa partita importante, 25 milioni dal PNRR, qualche malcontento forse sui territori, quale sarà da parte di alcuni abitanti, quale sarà il ruolo della provincia in quest'opera? Noi abbiamo un ruolo sull'Inter più che altro autorizzativo, con i nostri uffici ci siamo sempre messi a disposizione sia col Presidente del Consorzio De Santis, con l'amministratore delegato di Consere Giuseppe Greco perché dobbiamo tutti giocare la partita più velocemente possibile e per darci una mano tutti insieme. Questo accordo di programma che andiamo a firmare con la Navasso è la dimostrazione che in tempi celeri abbiamo chiuso anche una partita di cui da tempo il territorio aspettava risposta, è chiaro che i finanziamenti PNRR hanno accelerato su un percorso che era già avviato ma con delle scadenze non così stringenti, adesso tutti insieme dovremmo darci da fare. Noi con i nostri uffici siamo a completa disposizione, questa è una priorità sicuramente per il territorio, quindi faremo tutto quello che è necessario fare. E vi anticipo che il tema rifiuti sarà al centro questa settimana del nostro settimanale extra, obiettivo centrato sul progetto che vuole la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti a Premosello Chiovenda, intervisti ai promotori del piano e ai residenti delle frazioni di Cuzzago e Nibbio, che invece non lo vogliono extra in onda alle 21 ogni mercoledì e poi ancora il venerdì alle 18. La cronaca giudiziaria con il processo di appello a Torino per due degli imputati del processo legato al fallimento Ossolana SRL. È stato fissato per il 20 aprile prossimo il processo di appello a Torino per due degli imputati del processo legato al fallimento di Ossolana SRL. Le persone coinvolte nelle indagini avevano infatti scelto iter giudiziari diversi come il rito abbreviato, il patteggiamento. In questo caso si tratta del giudizio d'appello per Giuseppe Nasini, il manager considerato amministratore di fatto della società, condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi. Appello anche per Luigi Morelli, condannato a un anno e 4 mesi. Parte civile al processo il fallimento dell'Ossolana con il curatore fallimentare Francesco Roman e l'avvocato Patrick Rabbaini. Le indagini della Guardia di Finanza scattarono nel 2017 con l'esecuzione di 7 ordinanze di custodia cautelare. Il GIP aveva anche disposto un sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro. I farmacisti fanno chiarezza sul ritiro farmaci con tessera sanitaria in farmacia. Precisano alcuni punti per aiutare pazienti e cittadini ad accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico e dunque al ritiro di farmaci con la sola tessera sanitaria. Ogni cittadino che intende usufruire del suddetto sistema deve autenticarsi in diverse modalità. Online su salutepiemonte.it, presso le ASL di riferimento oppure nelle farmacie. In queste ultime il paziente deve portare con sé il proprio smartphone. Solo così il farmacista potrà aiutare il paziente ad accedere e a usufruire dei servizi. Si ricorda agli utenti che durante il primo accesso è possibile selezionare le farmacie a cui si intende dare il consenso all'accesso ai dati. Ogni qualvolta vi sarà da parte del medico una prescrizione in modo tale da poter scaricare la ricetta direttamente dalla piattaforma, scegliendole come farmacie abituali oppure selezionare la farmacia come occasionale la quale potrà accedere al servizio solo in tale momento. Per ora non è obbligatorio configurarsi. Ci teniamo a sottolineare, dicono i farmacisti del VCO, che le farmacie insieme a Federfarma e alla Regione Piemonte stanno lavorando per risolvere le criticità emerse durante l'avvio delle procedure. E oggi il test per lo spostamento del mercato nella piazza antistante Il Municipio. A Gravellona Tocce vediamo come è andata. Dalle parole ai fatti, giornata di prova a Gravellona in piazza Resistenza per il nuovo mercato che abbiamo visto gli spazi, era la prima vostra preoccupazione anche da parte del Comando di Polizia Locale, ci sono per ospitare nove banchi in questo lato e nove bianchi nell'altro lato. Esattamente. Il problema dell'amministrazione era quello di avere gli spazi adeguati. Noi avevamo già comunque preso le misure e verificato che si potesse svolgere, ma in effetti i problemi non ce ne dovranno essere perché il mercato un tempo già si svolgeva in questa piazza, quindi sarebbe un ritorno alle origini. Diciamo che abbiamo puntato tanto per tornare in questa posizione perché siamo in una posizione infelice, dimenticati un po' da tutti. Qui comunque con altre attività presenti nella piazza abbiamo la possibilità di lavorare più noi ma anche comunque gli altri che sono qui perché alla fine è per il bene collettivo, non solo degli ambulanti. Abbiamo fatto le nostre valutazioni però fisicamente abbiamo dovuto fare in modo che concretamente diciamo loro postassero qui i loro mezzi e i loro allestimenti per capire se fisicamente lo spazio è idoneo. Sembra che lo spazio insomma abbia le caratteristiche idonee ma sicuramente ha dei vantaggi ma anche delle criticità, quindi noi dovremmo assolutamente verificare queste e poi arrivare ad una soluzione che potrebbe essere lo spostamento oppure anche un altro tipo di soluzione. Nell'interesse però dei mercatari che alla fine la loro attività imprenditoriale è quella che conta di più. Esatto, allora il primo obiettivo è sicuramente l'amministrazione è quello di agevolare e sviluppare l'attività del commercio mercatale anche perché lo sappiamo benissimo, lo proviamo tutti, la concorrenza con il commercio online è sempre più forte e questi luoghi fisici noi cerchiamo assolutamente di mantenerli perché hanno un grandissimo valore anche dal punto di vista sociale. Una cosa importante non sarà dalla prossima settimana perché ci sono tutti dei passaggi burocratici e quindi si parla di almeno un paio di mesi. Esatto, voglio rassicurare tutti, questa è una prova che era necessaria fare, poi seguiremo assolutamente tutto ciò che deve essere fatto, per cui le riunioni e i confronti con tutti i soggetti che eventualmente evidenziassero anche delle difficoltà. Il progetto di sviluppo a Reinterne dell'Ossola sta andando avanti, la pandemia prima e l'instabilità internazionale hanno poi rallentato l'iter burocratico di un progetto che tra finanziamenti pubblici e privati mette in campo 15 milioni di investimenti. La previsione è di concludere la fase progettuale nell'anno in corso, entro il 2025 le opere vedranno la luce. Il progetto sta andando avanti da diverso tempo, è chiaro che comunque in questo progetto sono coinvolte non solo le unioni ma è coinvolto il ministero, è coinvolta la regione, è coinvolta l'ASN e chiaramente in questi progetti, lo sappiamo tutti, molte volte ci sono dei piccoli intoppi che vanno superati però è molto vivo il progetto, sta andando avanti, è chiaramente non spedito come tutti vorremmo ma purtroppo qualche intoppo c'è sempre, ma comunque ormai siamo a un buon punto. Il progetto delle aree interne per l'Ossola è un progetto importante e ambizioso che metterà in campo complessivamente 15 milioni di risorse fra privato e pubblico e che tocca quali comparti? I campi di intervento sono quelli dei servizi e fondamentalmente dei servizi per la salute, per l'istruzione, l'educazione e per la mobilità e però insieme anche progetti di sviluppo locale nei diversi settori di quelli dello sviluppo rurale, dell'agricoltura, del turismo, delle energie, degli insediamenti produttivi. Quindi sviluppo locale e servizi trattati insieme, per l'Ossola il tentativo è stato quello di leggere questo progetto di sviluppo nella chiave della trasformazione economica e sociale dell'Ossola, dal suo passato industriale, verso una nuova stagione della Green Economy, come dice, verso questa famosa transizione ecologica che dovrebbe guidare, che ha guidato il piano nazionale di ripresa e resilienza e che è il segno di questa fase dell'economia e di questa ripresa dell'economia italiana dopo le vicende della crisi economica prima, poi della pandemia, poi della crisi globale legata all'instabilità, alla guerra, eccetera. Io sono fiducioso, decisamente fiducioso che le cose che stiamo facendo e che richiedono un tempo non breve, mi rendo conto, per andare avanti però ci porteranno a dei risultati. Azzardavo prima appunto che questo è l'anno per chiudere la progettazione definitiva e esecutiva delle opere e di qui, alla fine del 2025, penso che le cose le vedremo davvero realizzate. È Paolo Ricci, il presidente del nuovo Consiglio degli Ordini e degli Avvocati di Verbania. Sono stati nominati segretario Gianluca Ubertini e tesoriere Cristina Beatrice Madella. Gli altri componenti del Consiglio, in seguito alle elezioni del 23-25 gennaio, sono Silvia Varioletti, Alberto Domenico Zanetta, Roberto Stefano Brovelli, Maurizio Rogora, Antonello Viviano e Marco D'Averio. Il Consiglio resterà in carica per i prossimi quattro anni. Programmazione, nella nuova puntata dell'Appetito Vienleggendo ospite, lo scrittore Matteo Severgnini si parlerà del suo ultimo giallo La regola del rischio, edito dalla Svizzera Todaro, che ha per protagonista l'investigatore di Orta San Giulio, Marco Tobia. Con Maria Elisa Gualandris è la regia di Mirko Zullo e in collaborazione con gli studenti del Rosmini International Campus. L'appuntamento con l'Appetito Vienleggendo è su Vicio Azzurra TV il mercoledì alle 21.45, il giovedì alle 14.05 e il venerdì alle 18.45. Ancora la nostra programmazione con la nuova puntata dell'Infinito dentro un bisogno che vi aspetta il giovedì alle 18, il venerdì alle 13, alle 21.30. Vi aspettiamo all'Infinito dentro un bisogno, la trasmissione di approfondimento del volontariato e del non-profit a cura del Centro Servizi per il Territorio Novara VCO. In questa puntata parleremo di giovani, in particolare dell'opportunità che costituisce per i giovani l'esperienza di volontariato e con quali modalità è possibile farlo e che cosa il Centro Servizi per il Territorio sta attuando per coinvolgerli, per accompagnarli in questa esperienza importante per la nostra comunità. Ne parleremo con il nostro Presidente Daniele Giaime, grazie di essere qui con noi in studio. Daniele raccontaci con quali strumenti, con quali iniziative è possibile far conoscere ai giovani l'esperienza di volontariato, l'esperienza delle associazioni e com'è possibile incontrarli? Quali iniziative si stanno attuando? Sicuramente la prima cosa importantissima è la campagna di comunicazione che stiamo lanciando con il campione di fama mondiale Max Blardone, con la bacheca del volontariato dove oltre 40 associazioni si sono già presentate con i loro progetti, dall'altra parte i tavoli che stiamo cercando di costituire per dei laboratori di digitalizzazione con le persone più giovani e con le persone della terza età, dall'altra parte il servizio civile che stiamo cercando di rilanciare, di lanciare in modo da coinvolgere i giovani all'interno delle associazioni e dall'altra parte l'ex alternanza scuola lavoro coinvolgendo le scuole e i ragazzi per accoglierli nelle loro associazioni per svolgere le ore previste dalla normativa. Ecco, dal punto di vista c'è anche la possibilità del servizio civile universale? Assolutamente sì, in particolare il bando scade il 10 febbraio alle ore 14 e con il nostro sito del CST stiamo lanciando tutte le opportunità di servizio civile delle due province, in particolare l'ambulanza del Bergante ha sei posti disponibili e ci si può candidare fino alle ore 14 del 10 febbraio. Ecco, questo e molto altro sarà approfondito nella puntata dell'Infinito dentro un bisogno, vi aspettiamo. Giovedì sera, altro appuntamento con Storia Quattro Zampe, da domani cambia l'orario di emissione del programma che anticipa alle 20 e 30 e sarà così per tutti i giovedì. Protagonisti della puntata, la gatta Ernesta, il cane Jack e il criceto Ciccio, un divertente servizio sui gatti, adorabili ma non sempre disponibili alle nostre carezze. Nella rubrica Il medico risponde si parla di sterilizzazione, la trasmissione torna anche venerdì alle 13 e 30 e il sabato è alle 18 e 45. Le bocce nella pagina sportiva, una vittoria e una sconfitta nel weekend della Raffa. Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 sono andate in scena la seconda e la terza giornata del campionato di Serie A, specialità Raffa. Sabato Possaccio ha perso onorevolmente 3 a 5 dalla Inox Mosciano e invece ha vinto 6 a due domenica in casa della Coffer Metal Market di Castelfidardo. Dopo tre giornate in evidenza i veneti di Giorgione Travillese che a quota 7 guidano la classifica insieme alla punto Inox Vigasio con Formicone, Nanni e Miloro, una delle grandi favorite. Con 6 punti seguono Caccialanza, Nova Inox Mosciano, TM88 di Cologno e i nostri del Possaccio. A quota 4 faravolo Kennedy, Flaminio a un solo punto, a quota 0 a sorpresa la Boville Marino Roma in compagnia di Metal Market. Una curiosità, la Flaminio domenica ha perso a tavolino con i codognesi di TM88 per l'irregolarità di una corsia di gioco troppo scorrevole rispetto ai limiti consentiti. Ma veniamo a Possaccio. A Mosciano la sconfitta della Terna per 8 a 4 e per 8 a 2 ha fatto la differenza in negativo. Negli altri match, sia di individuale che di coppia, i verbanesi hanno sempre pareggiato vincendo un set su due. Per esempio, Signorini e Scichitano hanno perso il primo set 5 a 8 e poi vinto il secondo 8 a 2, mentre Paone e Andreani hanno fatto il contrario vincendo il primo scontro 8 a 6 e perdendo il decisivo secondo set con lo stesso punteggio. A dirla tutta, un pareggio sarebbe stato molto più veritiero. A Castelfidardo invece doppia vittoria nella Terna con Signorini, Scichitano e Mazzolini prima 8 a 2 e poi con più fatica 8 a 7. Altrettanto ha fatto Cristiano Andreani 8 a 4 e 8 a 6 contro Marinelli. Nelle gare di coppia, se Signorini e Scichitano hanno vinto prima per 8 a 7 portando il punteggio sul 5 a 0 e poi per 8 a 4 su Marinelli e Paolucci, non così è stato per Andreani e Paone, poi sostituito da Turuani, che peraltro a partita vinta e finita come abbiamo visto 6 a 2 hanno perso sia il primo che il secondo set. Sabato prossimo Possaccio torna sul terreno amico contro Laboville di Palma, Rosati, Facciolo e Santoriello e non sarà facile. È tutto, grazie per l'attenzione e buona continuazione di serata.